το placement έφευε ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di dark knight siamo nell'episodio numero 19 di fatal bullet e signori per la precisione questo è il 19.1 ovvero il primo dei due finali cattivi di fatal bullet qui c'è da difendere una persona io ovviamente mi metto in gioco per difendere zeliska sempre comunque zeliska ma neanche si discute su questo argomento ed evidentemente proteggendo una eroina l'altra farà una brutta fine è abbastanza scontato ma comunque lo andremo a vedere insieme come è successo beh c'è arrivato il pacco di death gun a casa e il pacco è un bel nerve gear quindi dobbiamo metterci il casco e ritornare tra virgolette dentro a incrad più o meno diciamo che torniamo in questo postaccio e non può andare sempre tutto bene speravamo di tornare nel castello farci i nostri 100 piani affrontare hit cliff e no mi dispiace siamo in questo mondo disgraziato e ci appare subito curea e dice ma no no perché comunque oltre curea avremo anche in nostra compagnia zeliska e itsuki quindi saremo un bel gruppettino affiatato e a quanto pare siamo tutti qui per affrontare death gun diciamo che gli ultimi due episodi perché questa è più o meno stata la trama del gioco ovvero che negli ultimi tre episodi scoppio il finimondo come è successo faccio un breve riepilogo per chi non lo sa beh c'è arrivato una lettera di death gun in cui appunto ci sfidava una specie di prova di forza in una specie di duello mortale in cui noi abbiamo dimostrato nel gioco di essere forti tra virgolette per finta abbiamo avuto nostra fasis con un bel po di fortuna e abbiamo fatto diciamo questa scalata nella top ranking con un pochettino di botta di culo diciamo e quindi ci ha sfidato per dimostrare effettivamente se siamo solo degli sculati oppure se siamo davvero forti poi abbiamo anche visto da un lato itsuki che è diventato malvagio ha fatto il blackout totale e ha praticamente buttato fuori tutta la gente dal server curea che ha fatto la frignona perché ha perso un duello e più o meno questo è tutto per chi insomma non avesse visto gli scorsi episodi comunque fulcro di tutto ciò è sconfiggere death gun siamo qui siamo pronti siamo carichi e tutti quanti ovviamente hanno la loro opinione qui curea ziliska e zuki curea in primis vuole andar lei a far fuori tutti quanti io le direi guarda hai già perso contro di me figurati se vai a battere death gun va stai un po stai un po calmina qua la spaccona l'ultima volta che hanno fatto la spaccona hai finito in lacrime e ha cancellato tutta la lista amici tipo sembra quasi uno di quei bambini delle elementari mi ha fatto il dispetto ora ti cancello dagli amici non sei più mia bff o mio dio è più o meno è finita così l'ultima volta con curea da beh comunque dietro questa mega diciamo raduno e anche questa grande scomparsa di tutti e tre perché poi ognuno durante gli ultimi episodi ha detto guarda ci vediamo io lascio lo squadrone oppure mi prendo una pausa perché hanno tutti inventato delle scuse diciamo che era un po per coprire anche il fatto che hanno ricevuto tutti quanti la lettera da death gun e siamo tutti quanti qui con il nerve gear quindi non solo noi siamo in pericolo ma anche gli altri tre per chi non sapesse cos'è il nerve gear beh semplicemente è un bel caschettino che ti teletrasporta in un videogioco e se muore nel videogioco ti frigge il cervello molto semplice pratico vabbè in ogni caso se state vedendo questo video è chiaro che conoscete un minimo sword art online però comunque è bene anche parlare di queste cose quasi tornare indietro nel tempo non fare il game master così comunque dai curea su basta è inutile è inutile che stai a fare la spaccona è lì io spacco tutto vado a death gun mamma mia che disastro comunque che disastro comunque adesso ci saranno un bel po di discorsi quindi prendetevi magari un po di popcorn mettetevi con comodo perché vi assicuro che il video durerà parecchio supererà la mezz'ora ma anche perché il finale è quasi tutto unito cioè non si poteva neanche fare a pezzi è così tutto compatto e va vissuto tutto insieme da quando diciamo indossate il nerve gear in avanti è tutto un unico blocco sarebbe stupido dividerlo e anche poi c'è il discorso per cui noi dovremmo andare a vedere anche il secondo dei finali cattivi e quindi non possiamo fare finale cattivo 1 parte 1 poi finale cattivo 1 parte 2 e poi avanti così cioè non finiamo più questi maledettissimi finali quindi mettetevi un bel po comodi un po di pazienza e vediamoci questo finale maledetto comunque davvero sembra strano perché appunto negli ultimi episodi abbiamo visto che kirito ci aveva lasciato dicendo vado a trovare death gun nel bov e ora invece lo troviamo qui e dice ma com'è possibile questa cosa quanti death gun ci sono? cioè uno è andato da kirito e uno è venuto da noi guarda c'è un piccolo problemino e qua quindi c'è davvero un problemino probabilmente qualcuno sta mentendo o il mittente della lettera non è death gun oppure c'è qualcosa di strano veramente strano comunque qui parlano e parlano e parlano parleranno per un bel po quindi fateci un pochino l'abitudine comunque avete tutti i dialoghi qui a schermo quindi potete leggerveli tranquillamente inutile che ve li rileggo pure io a voce li avete tutti iscritti tutti belli preparati comunque in cosa consisterà questo mega episodio finale? iniziamo già a parlarne un po' consiste nell'affrontare ovviamente un boss finale ma più o meno come di tutti i videogiochi dappertutto abbiamo questa specie di mega finale in cui arriva il boss per eccellenza vi ricordo ad esempio in All Realization abbiamo affrontato quel mega kobold con l'armatura alla fine del DLC 3 e poi vabbè Chirito in fondo ai mille piani Chirito malvagio quindi quella si che è stata una grande sfida comunque in tutti i videogiochi c'è il boss finale praticamente un po' dappertutto ma mi sembra anche giusto sarà un pochino tosto come boss quindi preparatevi e diciamo che poi ci sono delle particolarità di cui dovremmo discutere quindi insomma quando lo vedremo avremo anche un po' di cui parlare un pochino di dettagli insomma e anche un po' questo discorso del fatto che questo finale sia quello cattivo come avete anche sentito Klein nell'intro è un po' particolare come scelta diciamo che non si vedono quasi mai videogiochi ultimamente con la doppia scelta finale cattivo finale buono io ero abituato diciamo per quanto riguarda magari giochi sul dating system proprio accurati proprio solo su quello in cui dovevate corteggiare la vostra eroina comunque dovevate corteggiare una delle protagoniste del videogioco e poi c'era il bad ending e il true ending non so in alcune tipo la tizia vi lasciava in altre invece vi sposavate felici e contenti tutto a posto comunque se avete scelto o curea o zeliska dopo questo dialogo introduttivo in cui siete tutti insieme vi parlerà l'eroina che avete scelto quindi se avete scelto curea parlerete solo con curea se avete scelto zeliska parlerete solo con zeliska nel mio caso quindi ho scelto zeliska e parliamo un pochino con la nostra bella ragazzina qui e beh cosa dobbiamo dire di più se non essere contenti di difendere la nostra zeliska ah mamma mia quindi davvero sono ti difendo ti difendo io tranquilla non devi assolutamente crepare tu sei dietro di me a posto e qua siamo tutti bene felici e contenti e che dire ovviamente poi nel finale cattivo che andremo a vedere poi la volta prossima quindi sarà ovviamente il 19.2 abbastanza scontata come cosa purtroppo parleremo con curea quindi ci tocca cosa ci rivela zeliska prima di questo scontro finale ovviamente prima di qualunque grande scontro è ovvio che c'è la confidenza c'è quasi la rivelazione di tutti i segreti tra cui quella di zeliska che è il lavorare per la zaskar la zaskar per chi non lo sa è l'azienda che gestisce Fatal Bullet quindi lei era parte dello staff e quando ha saputo l'inizio di Death Gun è stata una delle prime a indagare su questo caso ovviamente sotto copertura in incognito ma comunque sempre a indagare ed è anche per questo che non ce l'ha rivelato fino a questo punto perché ovviamente un agente sotto copertura non è che può andare a rivelare chi è chi che sia ovviamente deve un attimo stare caldo e prima ovviamente in questa mega battaglia finale ha indossato anche lei il Nerve Gear quindi in pratica rischia la morte è giusto dice beh almeno lo rivelo a qualcuno prima di non si sa bene che cosa tranquilla zeliska ti proteggo io non esiste comunque vai tranquillo comunque discutiamo un po' del fatto di questo Death Gun che un pochino ha avuto un piano malvagio insomma piano con i nerviare insomma come diamine agisce perché il fatto che potesse uccidere dentro del videogioco ha fatto abbastanza scalpore quindi era abbastanza grossa la faccenda non è di certo una barzelletta non è che si è inventato così ho preso dei caschetti li ho un pochino pitturati ecco i Nerve Gear non può essere solo così e quindi ora dobbiamo vedere davvero di risolvere questo problemone guarda che bella zeliska ah cioè è un onore combattere al tuo fianco dico solo questo basta dai ora gli altri pezzenti i tsuki i cure li abbandoniamo giochiamo solo di te va bene tranquilli e non c'è problema un po' sono anche triste per questa battaglia perché non c'è Asuna al mio fianco vi ricordate l'ultima volta che non abbiamo avuto Asuna al nostro fianco era contro il guardia porta contro il guardiano della Flugel ed è finita malissimo quello era il dodicesimo episodio mamma mia davvero quindi si prospetta davvero un disastro qui perché senza Asuna oh mio dio cosa succederà davvero pericolosissimo davvero la paura mille comunque abbiamo finito questa discussione con Zeliska ora ritorniamo con il nostro gruppo di combattenti e andiamo finalmente ad affrontare questo Death Gun o così almeno ci è stato presentato nella lettera quindi posto carichi siete pronti siete pronti squadrone qua finirà malissimo perché non c'è Asuna io l'ho già detto qua senza Asuna si rischia la la pelle quindi oh mio dio però dai in qualche modo vedremo di farcela su dai dai su qua c'è sempre Kurea che fa la spaccona ma quanto mi sta sulle balle mamma mia scusate ma ogni volta finisce sempre così no quasi Kurea proprio istiga alla violenza dici basta basta non ne voglio più sentire quando vedete la gente che fa così tanto la spaccona e poi fa un flop incredibile subito dopo davvero dici ma la credibilità proprio sotto zero mamma mia comunque lei ovviamente essendo anche nostra amica di infanzia non si perdonerà mai nel caso ci dovesse succedere qualcosa quindi in realtà tutti e tre sia Kurea che Isogi che Ziliska vogliono difendermi a tutti i costi giustamente sono io il loro grande padrone sovrano obey your master arriva il master of puppets dei metallica davvero oh mio dio e comunque dai dai che possiamo combattere possiamo vincere ancora ho qualche dubbio su Itsugi perché comunque se vi ricordate dal blackout dopo quella specie di reset totale del server che ha buttato tutti fuori ancora non ha fatto niente il che è preoccupante dice come uno prima agiva in maniera malvagia e poi si sta fermo fino a fine gioco non fa niente mmm qualche dubbio io l'avrei quindi ovviamente dobbiamo stare cauti anche sui nostri compagni di squadra anche su curea perché fa tanto la spaccone e poi finisce giù per terra guarda rischia subito questa io lo dico curea mi sa che finisce male curea mi sa che finisce male ancora prima che tutto succeda qua mmm c'è un po' di preoccupazione comunque che dire affronteremo questo boss finale quindi teniamoci pronti come equipaggiamento in realtà non mi ero praticamente preso niente di particolare ero rimasto con come arma principale il lupus 2 e come cecchino lo sniper e l'assassin che è quindi quello di at gun versione normale bene affrontiamo questo boss che è il GM il game master proprio oh mio dio ed è anche bello cattivo guardate che che figo come estetica questa specie di mech che vola con tutte delle sfere con due sfere ai lati oh mio dio cos'è sta roba preoccupante un po' mi ricorda quasi il drago finale di hollow fragment che lanciava le sfere con l'hollo slash vi ricordate la mossa finale che faceva quella specie di urlo con la bocca e poi lanciava delle sfere che vi inseguivano ed esplodevano davvero cattivissima come cosa comunque questo boss ha diverse armi a sua disposizione quindi non è affatto da sotto volutare e può combinare un bel po' di casini può appunto far scendere queste palle farle esplodere vi sparano anche dei raggi laser queste sfere quindi fastidiosissime e poi vi può anche generare dei droni quindi davvero può fare qualunque cosa cioè davvero da stare attenti qui vedete mi alterno un po' tra lo sniper e il fucile automatico perché comunque il suo nucleo il suo punto critico è proprio sul petto quindi è un po' più semplice rispetto a prendere magari delle corna come abbiamo visto per quanto riguarda le forbici sporche il manhunter è comunque un po' una via di mezzo magari prendere tutta la testa comunque non era così difficile quindi un po' metà e metà comunque dai ora vediamo di spararlo e buttarlo giù come vedete ha tre barre di vita e quindi è un po' lunga la battaglia quindi un pochino di forza e coraggio e dai vediamo di farcela dai su crepa bastardo comunque l'assassin devo dire che mi ha aiutato tantissimo perché appunto ha notevole attacco nonostante sia la versione normale dello sniper death gun poi vedremo più avanti il death wind che è la versione estrema quindi abbiamo questa doppia doppia cosa doppia interfaccia doppia arma una normal e una estrema qui vedete fa la mossa finale il boss io tento di schivarla tento di scappare vado in giro però alla fine mi colpisce lo stesso e questo appunto non sarà decisamente un ending felice perché appunto la mossa finale io qua vedete sono debole quasi per schiattare e ovviamente in punto di morte con quella lignetta di vita ci viene a difendere una persona e quella persona sarà appunto la miniatura del video che avete già visto quindi in parte però siete spoilerati maledetti e ovviamente sarà quindi curea curea si prende la mega bomba in faccia una sfera genkidama viola o una bijou bomb da quale anime dobbiamo prendere questa mossa finale non lo so comunque curea qui pezzo toccante anche un po' e si sacrifica per noi si sacrifica così dai un po' un po' di tristezza una lacrimuccia me l'ha fatta scendere anche lei in questo caso e che dire quindi è proprio morta è proprio schiattata una parte di me è comunque felice perché dice ah me la sono tolta di mezzo però dall'altro lato un po' triste perché un po' è colpa mia cioè è morta per difendermi è un po' la parte del gruppo quindi non è neanche giusto ovviamente qui davanti al boss quasi si rasenta la follia no? quando uno vede un compagno morto in battaglia a quel punto perde qualunque senno si scaglia contro il boss ovviamente Zeliska e Itsuki cercano di rallentare il boss mentre io mi riprendo e qui però la scelta è difficile qua continuare a combattere qui è davvero pericolosissimo oltre che sono praticamente senza vita c'è anche il discorso che oramai quasi la disperazione sale si scaglia contro il boss così a testa alta senza pensare a niente qui l'Arfasis comunque ci ferma cerca di calmarci cerca di dirci guarda devi stare calmo riusciremo da questa situazione in qualche modo ci riusciremo comunque non lo accetta siamo arrivati fin qui e anche un po' da fastidio dice cacchio siamo arrivati fin qui era finalmente la battaglia finale non può finire così di certo non può finire così dai dobbiamo vedere di risollevarci quindi adesso noi rimpugniamo la nostra pistola io in realtà non ho una pistola ma non importa facciamo finta che gioco con una pistola io e qui vedete la nostra Arfasis attiva i suoi poteri non so che poteri abbia riesce a comunicare con la cavalleria e si perché quando in 4 non basta beh a questo punto chiamiamo più gente e quindi dopo tutto questo scossone riesce a contattare Yui che appunto riesce in qualche modo a mettersi in contatto con noi appunto chiama tutto l'esercito e la truppa di Kirito che quindi viene in nostro soccorso a salvarci il chiappe siamo comunque una dimensione a parte come ho già detto una specie di mondo generato da questo Nervegear quindi era anche difficile comunicare con l'esterno comunque la nostra Arfasis c'è riuscita e quindi ora tutti insieme pronti a fare il mega assalto finale qui vedete fieri proprio Kirito con tutta la sua armata pronti al nostro comando a scatenare l'inferno davvero pronti preparatevi al combattimento e finalmente ragazzi finalmente arriva la mia Asuna e quindi dopo tanta attesa finalmente si affronta il GM io e la mia bellissima Asuna al seguito a posto oh adesso non si può più perdere oh abbiamo tolto questi scarponi di mezzo adesso solo io e Asuna e siamo a posto belli tranquilli e affrontiamo quindi questo boss finale come si deve diciamo che resta il fatto che la mossa finale ha quel qualcosa che dici forse ci sarà un problema dietro questa mossa finale perché è quella che ha scatenato tutto e infatti poi vedremo più avanti che sarà appunto questa mossa finale il centro e diciamo il fulcro per cui un finale è cattivo e l'altro è buono ovviamente salvarsi da questo boss questo boss è il problemone una volta sconfitto il boss è evitato che magari muoia qualche nostra compagna ovviamente non sarà più un finale cattivo ma sarà ovviamente un finale positivo comunque qui davvero io ho giocato tranquillissimo con la mia Asuna al seguito davvero ho detto ah a posto cioè mentre prima ero lì preoccupato ho detto oh mio dio devo curare curea devo curare zeliska devo curare i zughi tipo oh mio dio non devo neanche pensare a me stesso devo pensare agli altri scarponi che ho dietro invece qui davvero ho potuto combattere tranquillo tanto 1v1 col boss avevo Asuna dietro che mi curava Asuna praticamente resiste dovrebbe farcela anche da sola e quindi boh tutto tranquillo e io mi son messo qui piano piano con il mio assassin e l'ho cecchinato a ripetizione quasi fosse non so un fucile che spara raffi che bisogna essere pum 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 col cecchino a sparargli come un addannato ovviamente come vi dicevo questo è l'assassin quindi fa già molti più danni rispetto a un cecchino normale come può essere il sangfroid il force o quali altri cecchini ci sono non me li ricordo neanche più quelli scarsi però ovviamente nella versione estrema sarà più difficile il boss ma avremo comunque equipaggiamenti superiori quindi tutto viene compensato comunque qui il boss quando arriva verso l'ultima barra mi raccomando è sempre quella la limit il dead end crea questa mega sfera viola io qui ho provato a correre ho detto mio dio scappa fai qualcosa comunque mi ha preso in pieno ma sono rimasto con uno di vita ho detto ma che culo ho detto oh sono sopravvissuto a posto ora ti faccio un mazzo così e qui quindi dopo essere sopravvissuti alla mossa finale non si sa come è arrivato il momento di schiattare questo maledettissimo boss davvero divertente come cosa mi sono preso la mossa finale sopravvissuto wow uno non lo spera mai però quanto pare funzionare ovviamente ci sarà nella versione diciamo del finale quello giusto quello buono appunto un modo per evitare questa mega bomba sulla capoccia questa specie di bijou dama quindi mi raccomando dobbiamo poi vedere come diamine fare però per il resto siamo riusciti a tenergli testa qui io mantengo il fortino ah sono avuto pure un momento di debolezza ma non c'è problema qua c'è franci dark knight con la sua bella pupa a distruggere tutto col cavolo che ti faccio vincere maledetto boss col cavolo poi vedete che genera tutti questi droni fastidiosissimo davvero oddio ma quanti cacchio di mostricciatto le risorse hai ne tira fuori una più del diavolo da quelle mega sfere a poi i droni un po' di casino insomma comunque qui poi verso la fine inizio a sparargli pure col fucile automatico anche perché arrivato a un certo punto spawnava tanti di quei droni maledetti che non riuscivi neanche a mirare tranquillo oddio qui vedete genera un'altra sfera dici madonna basta basta con ste sfere non ne voglio più sapere qua tira sfere a manetta oh mio dio e comunque qui vedete che riesco a fermarlo da questa mega sfera e riesco quindi poi a ucciderlo quindi sarà forse questa la strategia fermarlo prima che rilascia questa mega bomba e magari appunto vedremo come diamine fare nel finale ovviamente vero comunque sconfitto il boss quindi siamo riusciti a sconfiggere il boss con la cavalleria con tutta l'armata di chirito che è arrivata no in realtà bastava Asuna cioè solo Asuna posso basta le sorti del combattimento si sono capovolte tutti in una volta e quindi ora vediamo cosa diamine fare abbiamo finito abbiamo quindi sconfitto il boss e chirito ci spiega la situazione guardate io sono stato nel B.O.B ho affrontato Death Gun che era un amico pazzoide di Sinon che gridava Sada San Sada San e l'abbiamo messo gli arresti quindi Death Gun non c'è questo chi ci ha sfidati chi vi ha portati qui non è Death Gun no non è lui io l'ho già catturato e già a posto e allora tutti quanti siamo lì per dire scusa e allora come minchiaia che siamo venuti qua cioè qualcuno ce l'ha pure inviata sta lettera non è che ok quello lì è Death Gun e allora chi è chi è stato chi è stato quel disgraziato che ci ha inviato la lettera e qui mentre appunto Chirito ci spiega la situazione interrompe il dialogo il nostro cattivone di fiducia che dopo aver causato un blackout adesso si rivela rivela la sua vera forma quasi a dire eh veramente sono io il malvagio dici cosa ah è vero tu eri quel pezzente che aveva fatto saltare nel server si però mi aspettavo non so un mantello un po' più figo che ne so delle corna un forcone le fiamme dietro no è solo i zucchi ci accontentiamo di lui come malvagio dai su allora cosa vuoi fare vuoi ucciderci tutti cioè vuoi combattere vuoi rissa vuoi botte e qui ovviamente lui dice che è con noi ha un legame particolare sapeva che saremmo venuti qui a sfidarlo e vuoi dicere vabbè io in realtà sono stato costretto non è che avevo molta scelta comunque ribadisce che Kurea si è si è sacrificata per noi noi siamo la causa di tutto ma Kurea non sarà la sola a schiattare in questo gruppo avete i nervi il nervgear dice lui quindi morirete tutti quanti come e quindi mentre tutti quanti imbracciamo le armi contro i zucchi che appunto rivela di volerci accoppare tutti beh manco un mafioso io vi accopperò tutti oh mio dio calmo calmino i zucchi guarda che ti facciamo un mazzo così noi noi siamo super forti poi adesso abbiamo pure Chilito e tutta la cavalleria dietro di noi quindi abbiamo truppe a volontà possiamo fermarti in qualunque modo non ti preoccupare comunque lui dice guarda io sono il cattivo dei cattivi ho diciamo comandato tutto questo sistema ho chiesto al mio amico Taipan del mio squadrone di diciamo configurare il nervgear mandarveli e quindi lui è stato quello che ha scogitato tutto questo casino lui proprio fin dal principio ci voleva male anche se poi per un motivo o per l'altro solo alla fine ha capito di essere veramente malvagio dentro non so è come po' o una persona che a un certo punto da di paz cioè adesso basta io farò il cattivo ammazzero ammazzero a tutti va bene contento tu io non inizio da dire e ovviamente come diciamo prima ha configurato questo mondo che è separato da GGO e se schiattiamo schiattiamo veramente quindi sinceramente io alla fine di Korea non la voglio fare quindi fatti sotto ma sappi che perderai assolutamente Itsuki dice mostrami un miracolo mentre fa spawnare questo mega boss di nuovo il GM che ritorna alle sue spalle e ovviamente Kiri tutti quanti preparatevi a combattere pronti tutti quanti tutti ovviamente con le armi puntate e quando siamo lì proprio per il finale per lo showdown ecco che a un certo punto il sistema si rimane e dice eh no volevate combattere mi dispiace fermate tutto come fermate tutto e si perché appunto il sistema va in errore da una specie di errore critico e ferma quindi il boss e tutti i piani inizioni beh diciamo la verità che due ragazzini avevano preso e configurato i Nerve Gear che erano la mano d'opera e diciamo il vero progetto di Kaiba Akiko mi sembra un po' troppo come diamine avete fatto dai su cioè c'era solo il grande Hitcliffe a configurare i Nerve Gear voi non potete far sta roba comunque dopo questo errore fatale spariscono tutti e Itsuki ovviamente ci dà il suo ultimo addio dice eh mi dispiace che sia finita così io volevo accopparti mi dispiace anche per me pure io volevo fermarti sai come tu volevi fare il cattivo io volevo fare il buono come al solito comunque ci saluta quindi ci dice bye bye sayonara ci rivedremo la prossima volta e poi mentre ce ne stiamo andando una voce quella che forse appunto è di Kaiba Akiko ci ricorda di continuare a esplorare questo mondo per trovare forse la soluzione ai nostri problemi forse è qualcosa c'è qualcosa che non quadra in questo finale e appunto è il finale cattivo dovremo poi vedere come diamine fare ad avere il finale buono comunque riuniti tutti dentro GGO quindi è finita la mega battaglia Kirito ci spiega un pochino la situazione ovviamente lui dopo che è successo questo gran casino è tornato nel mondo reale ha parlato con Kikuoka e con tutti i segretari lì il ministero degli interni e compagnia varie insomma i grandi capoccia e ovviamente Kurea e Kaput quindi hanno detto guardate l'abbiamo trovata a casa sua con il nervghiera in testa e niente c'è inizio da fare è morto è schiattato e quindi una Kurea è meno e poi ci spiega il resto della situazione ovvero che il vero Death Gun non era quello che ci ha inviato la lettera era sto ragazzino malato che voleva Sinon a tutti i costi voleva il culo di Sinon a tutti i costi e per il resto niente Itsuki è sparito viene andato chissà dove ha detto ciao io me ne vado e aveva progettato tutto Taipan che era un suo componente della gilda che aveva anche degli allacci dentro la Zaskar Zeliska non se l'aspettava e dice ma come diamine è possibile che ci siamo fatti sfuggire un simile cretino e niente quindi questo era diciamo tutto il piano malvagio dei due cattivoni Itsuki e Taipan anche se Taipan di per sé non lo so da ne è mai stato un grande cattivo e anche Itsuki da un lato come spiega Kirito l'ha quasi forzato a fare quel che ha fatto quindi boh finita così non c'è molto da dire questo modo hanno architettato tutto e sono riusciti quindi a coinvolverci in questo gran casino risulta comunque triste la faccenda perché come ho già ribadito negli scorsi episodi è una storia che viene generata è distrutta nell'arco di tre episodi nel senso che vi ricordate dal blackout di Itsuki cioè era l'episodio 17 ora siamo al 19 è finita la storia in pratica il grande cattivo ha fatto la sua mossa in tre episodi e tutta questa grande storia alla fine boh sembra quasi campatinare sembra all'ultimo si sono svegliati e così è finita a quanto pare comunque il sospetto che mi era venuto quando c'è stato il blackout di Itsuki era proprio questo cioè se notate nella storia poco dopo che Itsuki ha causato il blackout Kirito raduna tutta la compagnia e spiega che sono stati trafugati quei nervieri insomma che ci sono stati dati quindi questo è stato davvero il punto no per cui anche mi fa incazzare perché la storia è andata avanti con il protagonista che siamo noi che se ne è fregato di dire la verità e ha detto no vabbè facciamo finta di niente non diciamo che sto Itsuki avrebbe fatto il blackout no zitti tutti e quello avrebbe potuto risparmiare un sacco di persone perché potevano già metterli dietro le sbarre sai come il blackout proprio nello stesso identico momento in cui hanno rubato il nerve gear forse c'è qualcosa di sospetto comunque non ci rimane molto da dire è bella che è morta curea e ora dobbiamo continuare la nostra avventura senza la nostra preziosa amica di infanzia mi dispiace curea è finita così diciamo che capita un po' a tutti vabbè non proprio così però non importa e quindi ora dovremmo farci strada in GGO senza la nostra preziosa amica e dovremmo continuare nel nostro mondo ovviamente siamo tutti tristi però il mondo di GGO è vasto è grande e quando appunto ci sentiremo meglio ovviamente Kilton ci invita a parlare con lui ci deve rivelare altre cose importanti altre situazioni abbastanza così confidenziali Zelisca comunque è contenta io sono contento di averla protetta quindi ah Zelisca stai con me non ti preoccupare finché ci sono io tutto va tranquillo tutto filerà liscio meno male va che abbiamo salvato Zelisca comunque non avevo davvero dubbi su chi salvare almeno per il primo finale cattivo va salvata la persona giusta con il minimo va salvata davvero la persona giusta senza alcuna discussione ma non esiste mi raccomando comunque qui ovviamente Zelisca ci dice che rimarrà al nostro fianco deve ovviamente chiudere qualche faccenda con la Zaskar insomma sai com'è è successo un mega incidente dentro questa azienda no? oltre al fatto che Taipan aveva questi poteri questi agganci per cui è riuscito a fare tutte queste manovre e c'è anche mandato il Nerve Gear proprio perché conosceva gli indirizzi delle persone che erano registrate al server comunque Zelisca crede in noi e io sono contentissimo di questo e ovviamente la forza che abbiamo quella di di convogliare tutte queste persone tutte queste armate di gente con Kirito e tutti gli altri è qualcosa che va ben oltre per sparare il fatto di riuscire ad essere amici con tutte queste persone il fatto di riuscire quasi a muoverle dietro un unico fine questa forse è la forza più grande quindi diciamo che anche se è venuto a meno uno dei componenti del nostro quadrone comunque noi siamo una mega forza e continuiamo quindi a dominare il mondo di GGO poi adesso ci confidiamo infine con Kirito questo è l'ultimo dialogo comunque Kirito ci dice che anche lui in realtà aveva già partecipato a un gioco mortale e ci rivela appunto di essere un SEO survivor ovvero un superstite di Sword Art Online il gioco assassino che ha fatto un bel casino ha sterminato un bel po' di gente e quindi insomma sa come ci sentiamo lui di gente ne ha vista morire ma tonnellate ma proprio tonnellate quindi dice guarda se io in quel mondo dopo la prima persona che mi è schiattata davanti avessi smesso a quest'ora non ci parleremo praticamente io sarei bello che è morto dentro Sword Art Online insieme a tutti gli altri quindi il fatto che io sia qui è anche il fatto per cui ho superato la morte dei miei compagni ho superato il dolore e la tristezza che ci sono stati appunto riguardo a questa situazione comunque qui ci parla poi di Death Gun ci parla un pochino di questo ragazzino mezzo pazzoide e del fatto che lui in realtà aveva già incontrato il fratello di questo ragazzino pazzoide dentro Sword Art Online stesso ma insomma lo vedremo poi nella Kirito Mod e per chi si è già visto l'anime sa già di cosa sto parlando di questo Death Gun che faceva parte della Finkoffin cioè parte della gira degli assassini dentro Sword Art Online e di certo non era proprio un bravo ragazzo andava a uccidere la gente prima tornato a uccidere la gente anche qui insomma un bell'assassino devo dire comunque non si scherza e vi ricordo anche il Po della Finkoffin il capo della Finkoffin che abbiamo affrontato dentro Sword Art Online dentro Hollow Fragment e vi assicuro che non era affatto un cattivo da poco insomma quando ho mutato la mannaia alla gola la filia lì in quel punto capisci chi è il vero cattivo chi è il vero assassino dici porca miseria comunque poi un'ultima cosa ci chiede poi se abbiamo sentito qualche voce sul finale cioè qualcosa che ci ha parlato sul finale noi appunto diciamo guarda sì in realtà abbiamo sentito una voce parlarci appunto come dice Chies ci sono molte informazioni molte cose che ancora non conosciamo soprattutto in questo mondo digitale cioè non sappiamo niente nel mondo reale non sappiamo niente neanche nei videogiochi che giochiamo quindi immagina e chissà quella voce di Heathcliff quindi ci guiderà nei prossimi episodi e quindi qui Chiedito dice è finita così abbiamo sventato i piani di Shinkawa questo ragazzino abbiamo messo questi due dietro le sbarque più o meno diciamo che li hanno tra virgolette risparmiati no? perché alla fine sapete che funzionano i processi vanno per le lunghe poi il colpevole dichiara l'infermità mentale quindi va a finire tutto che vabbè si fa un po' di cura psichiatrica e via passa tutto certo le persone sono morte e non ritornano più in vita però il criminale vabbè va tranquillo giusto un pochino di psichiatria a posto che dire e mentre tutti quanti si stringono si accorpano per un nuovo futuro sperando una felicità maggiore di quella di vedere crepare qualcuno quindi che dire siamo tutti qui tutti uniti tutti pronti per la prossima avventura e io vi aspetto ovviamente nel prossimo episodio spero che siete ancora tutti interi tutti vivi dopo tutti questi minuti e ci vediamo quindi con il prossimo episodio che sarà l'altro finale cattivo il 19.2 e poi ovviamente a seguire ci saranno un altro bel po' di sorprese qui su Fatal Bullet quindi mi raccomando rimanete qui con me sul canale e ci vediamo al prossimo video Dark Knight è tutto ciao a tutti a tutti